Un'occasione per approfondire le tematiche relative alla transizione energetica offrendo un'analisi delle migliori pratiche adottate, delle problematiche e delle opportunità emerse durante l'esecuzione dei progetti attuati dalle aziende del trasporto pubblico locale. È il seminario tecnico Trasporto pubblico a zero emissioni, le buone pratiche per la trasformazione energetica del settore, organizzato dall'Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale in collaborazione con l'azienda provinciale Trasporti di Gorizia. Iniziative come queste ci consentono di sperimentare sul campo insieme alle aziende la vera efficienza dei mezzi e contribuire con le aziende produttrici a innovare i loro prodotti ed essere sempre più efficienti. L'obiettivo è l'emissione zero e la si ottiene con queste grandi sinergie che ci auguriamo consentano in un futuro prossimo di avere addirittura migliori prestazioni come tanti player che fanno investimenti, ricerche e innovazione stanno scommettendo. Il percorso di decarbonizzazione di APT Gorizia ha già visto il raggiungimento di importanti traguardi. L'azienda guarda ora ad ulteriori passi avanti. Abbiamo firmato il contratto per la costruzione di un deposito di idrogeno verde, quindi abbiamo già un appalto integrato con la progettazione e la realizzazione, abbiamo già un deposito idrogeno verde che si alimenterà con un impianto fotovoltaico e abbiamo già un impianto di gas liquido, quindi tre importanti misure per la transizione. Tra i momenti centrali del seminario la presentazione del protocollo d'intesa tra il gestore dei servizi energetici e l'associazione delle aziende di trasporto pubblico locale per supportare le aziende associate nel percorso di trasformazione verso le zero emissioni. Innanzitutto sostenere il processo di decarbonizzazione di tutte le imprese del trasporto pubblico locale annesse all'associazione attraverso l'utilizzo dei meccanismi di incentivazione per sviluppare rinnovabili comunità energetiche, dunque gruppi di autoconsumo, per sviluppare l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, per utilizzare il meccanismo dei certificati bianchi, per il rinnovo della frotta veicolare, passare da mezzi a diesel, a mezzi elettrici alimentati a idrogeno piuttosto che a biometano e implementare altri meccanismi di incentivazione della mobilità sostenibile gestiti dal GSE come per esempio la mobilità elettrica, lo sviluppo delle colonnine, l'utilizzo anche della PUNA, la piattaforma unica della mobilità che geolocalizza tutte le infrastrutture di ricarica presenti nel Paese di natura pubblica.